Le antiche prescrizioni in questo comprendevano non solo i precetti di Dio rivelati a Mosè, ma una serie di dettami che specificavano le... Manca ormai poco al pellegrinaggio che coinvolgerà circa 500 cittadini di San Valentino Torio che insieme al sindaco Michele Stranese dal parroco Don Alessandro Cirillo accompagneranno mercoledì la statua di Maria Santissima della Consolazione appena restaurata in piazza San Pietro a Roma, dove verrà incoronata da Papa Francesco, un momento di comunione e fede da portare nel cuore, come affermato da Don Alessandro. Ecco, noi andiamo a Roma non perché dobbiamo portare un'immagine, andiamo a Roma perché questa è un'opportunità, direi un'occasione, un motivo per poter andare a Roma in pellegrinaggio sulla tomba dell'Apostolo Pietro per ascoltare la parola del Papa e per essere confermati nella fede ecco dal Sommo Pontefice che per noi cristiani è il segno visibile dell'unità della Chiesa ma è anche la presenza di Gesù che cammina in mezzo a noi. Ecco, poi Papa Francesco ci incoraggia sempre di più ad essere attenti agli ultimi, alle periferie esistenziali che oggi ci sono nel mondo e anche noi abbiamo desiderato, voluto, che anche i pellegrini, ecco tutti i pellegrini daranno un segno di carità concreta al Papa dove io consegnerò personalmente nelle mani del Santo Padre un segno della carità che poi lui vorrà destinare per ciò che il suo cuore meglio desidera. Quindi noi andiamo a Roma al di là della Stato della Madonna della Consolazione andiamo a Roma perché desideriamo stare insieme, vogliamo che questi festeggiamenti quest'anno abbiano questo life motive, cioè poter essere guidati dalla parola di un pontefice che oggi ormai è un consenso mondiale, è forse una delle figure più autorevoli ma anche più seguite che ci sono oggi attualmente sul panorama mondiale. Grazie a tutti.